E benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui per fare il video L'accogiatura di Miriam, è un vlog che mia mamma saluta i capelli a Miriam Guardate qua, lì c'è mia mamma, ciao mamma saluta Ciao, buona sera Iscrivetevi al canale E che, guardate come fa I capelli Così Io non sto facendo vedere la faccia Invece Cioè, sto riprendendo la mia faccia Però guardate la mia maglia Ciao Ciao Sto a casa di Miriam E guardate qua Passaggio di lacca Ora ripettina Questa è una semplice coda, come ha detto mia mamma, vero? Sì E Cosa è il pettine? Adesso fa l'accogiatura Ne un codino E Guardate Fa tanti giri E poi la fa La giusta Guardate com'è la giusta Facilissima da fare Aggiusta bene bene In ogni mini morticola Cosa è un po' davanti Perché alla signorina piace un po' più morbida Quindi la ammorbidiamo un po' E voilà Ci mette la lacca Adesso No, no Con la treccia te l'ho giuda Adesso Stava mettendo altra lacca Allora E sta facendo un tupone, una cuda E che cos'è? Per non far vedere il codino Ah Mettere delle mollette Puoi prendere Mettere altre mollette E adesso Stava mettendo altra E Dico, non ha una cosa a mamma La sta pezzitando Le mette altra lacca Le mette altra lacca E Ora La nostra Miriam è pronta E quindi se il video vi piacciono Iscrivetevi al canale Lasciate un like E attivate la campanella Per ricevere tutte le più identifiche Mi raccomando Seguitemi anche su TikTok Con il nome di Usa il CPF E noi naturalmente Ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao E fatemi salutare anche Dalla mia amica Miriam Che lei Parteciperà anche In altri video Ciao